L'accusa è pesante. L'indagato è un frate e deve rispondere di violenza sessuale nei confronti di sei fedeli, tra cui due minorenni. E dopo due condanne in primo e secondo grado a sei anni e dieci mesi, adesso il processo ripartirà da una nuova sezione della Corte d'Appello di Palermo. La Cassazione ha annullato la sentenza a carico di Don Salvatore Anello. Secondo la Corte Suprema, l'attendibilità delle vittime non era stata valutata in modo approfondito. Le violenze sarebbero state commesse durante preghiere e riti organizzati per liberarle dal demonio. Secondo il difensore di Don Anello, le presunte vittime degli abusi sarebbero soggetti che tendono ad aderire, specie in momenti emotivamente stressanti, a credenze magiche e irrazionali. Si tratta di soggetti fragili, ha scritto nel suo ricorso l'avvocato, con intensa propensione a vivere intensamente le esperienze spirituali che considerano come reale il mondo magico superstizioso, i fenomeni paranormali e che sono convinte dell'esistenza del satanismo e della possessione demoniaca. Insomma, nessuna violenza secondo il difensore, ma solo suggestionabilità e dipendenza psicologica da figure guida.